buongiorno ben trovati un saluto a tutti vediamo la situazione sul nostro indice di borsa di medio lungo periodo con time frame weekly candele giapponesi e ho inserito queste fasi temporali cicliche perché abbiamo una cadenza sicuramente molto molto precisa chiaramente con un minimo di tolleranza vista l'estensione temporale ma vediamo come ci siano dei minimi importanti e profondi di ripartenza ciclica e come questi sono cicli quadriennali e come i sottocicli quindi i biennali vadano anch'essi a ben a tagliarsi a quella che è la situazione ossia i cicli biennali che noi andiamo a inserire ci mostrano come anche la loro partenza ecco questo è un biennale altro biennale che si chiude altra fase di minimi partenza chiusura al ribasso del quadriennale in azzurro e del biennale nuova ripartenza e anche qui precisione molto molto interessante quindi abbiamo una precisione sia sui quadriennali che sui biennali e questo cosa ci fa presupporre che l'attuale biennale questo in rosa essendo a metà abbia chiuso quindi il ciclo annuale si sia in presenza di una nuova partenza annuale ma la situazione ci lascia presupporre che non sarà un ciclo annuale con molta forza per due motivi il primo motivo è che contestualmente ci troviamo in una fa il quadriennale è molto avanti e quindi nella fase oltre due terzi in cui come tutti i cicli vediamo qua e vediamo anche qui tendono a manifestare debolezza la seconda cosa è che l'attuale ciclo biennale partito qui il suo minimo di partenza è stato rotto al ribasso recessione covid non ci interessa facciamo analisi tecnica è stato rotto al ribasso quando un ciclo viene rotto al ribasso si va a decretare ribassista e quindi dovrebbe chiudere più basso di come aperto quando viene rotto come appunto accaduto qui il suo minimo di partenza quindi essendo adesso alla ripartenza dell'annuale ci sta di avere ancora del rialzo per poi andare a chiudere il biennale e il quadriennale con della debolezza fino a dove potremmo avere rialzo proviamo con una semplice trend line e qui siamo proprio in analisi tecnica di base a andare a contestualizzare a vedere dove è la resistenza importante siamo in area 19 mila punti dove il mib potrebbe anche arrivare qui appunto la resistenza e le fasi cicliche che tendono lentamente verso la chiusura potrebbero dettare da qui in poi operatività ribassista chiaramente non possiamo sapere fino a quanto come livello di prezzo poi il nostro indice potrebbe scendere ma fino a quando e quindi fino a metà del 2021 in teoria e poi chiaramente lavoreremo giorno per giorno ma comunque ci aspettiamo della debolezza magari non crolli ma comunque se i 19 mila punti come resistenza dovessero tenere e l'indice cominciare a scendere cercheremo comunque di orientarci per il medio periodo in operatività ribassista un saluto a tutti e buon trading